Per l'edizione 2022 del Rossini Opera Festival, Juan Diego Flores sarà ancora in quello che è il suo habitat naturale da 30 anni. Ad agosto il tenore peruviano calcherà infatti il palcoscenico della 43esima edizione delle ROF nell'interpretazione del conto Rì, ma intanto è già pronto ad allargare la sua dimensione artistica sulla pianificazione delle edizioni che verranno. Da novembre scorso Flores è stato infatti nominato nuovo direttore artistico del ROF, un nuovo ruolo che il tenore ha commentato nel weekend nella sua prima uscita pubblica a Pesaro alla presenza del sovrintendente Ernesto Palassio, del presidente Daniele Vimini e di Cristian della Chiara che sarà il direttore generale del festival per il triennio 2022-2024. Sono molto contento di essere a ricoprire questo ruolo, molto onorato, sono sicuro che col team che abbiamo faremo un lavoro molto buono per le stagioni, per le edizioni successive e sono contento perché ero già molto legato a Pesaro e adesso ancora di più con la mia esperienza potrò dare un contributo mi pare importante per le scelte artistiche delle edizioni del futuro. Quindi sono molto contento in questa nuova fase della mia vita artistica e niente, io continuo a cantare, continuo a fare la mia carriera, anche a cantare qui nel festival, quindi faccio questo doppio lavoro che mi piace e continuo a cantare anche per il mondo e quindi molto contento e onorato. Per Flores la programmazione dei festival futuri saranno frutto di un lavoro gomito a gomito con Palacio che sarà arricchito dai tanti spunti di novità assorbiti dal tenore peruviano nella sua agenda di impegni planetari già densa di recital e opere fino al 2030. Sempre si cerca di portare qualcosa di nuovo, stiamo pensando a nuove idee e quindi anche cose che vedo nel mondo, perché nel mondo viaggio tanto e quindi si vedono cose che si fanno, nuove cose e quindi si possono anche fare qui. Quindi ancora stiamo parlando, facendo un po' di brainstorming per capire cosa può andare bene nella situazione del festival. Il maestro Palacio, il sovrintendente ed io stiamo lavorando sulla prossima edizione.